un maniaco omicidia dai mille travestimenti semina il terrore a new york tra la folla anonima isola le sue vittime ne studia le abitudini e la psicologia conquista la loro fiducia e li uccide lasciando il suo marchio un bacio scarlato sulla fronte dei cadaveri e instaurando uno strano rapporto con morris brummel l'agente incaricato delle indagini non si maltrattano così le signore è un romanzo scambito da più voci l'assassino il racconto di brummel attraverso il suo diario e gli articoli dei quotidiani e il risultato è un libro che cattura immediatamente l'attenzione